Le richieste dei 66 lavoratori della fisiomedica Loretana di Toro sul tavolo dell'assessorato regionale al lavoro. Michele Petraroi ha incontrato una loro rappresentanza e anche dell'azienda. Lavoratori che avanzano a retrati e vedono il futuro sempre più fosco chiedono risposte a Regione Asrem. Ovviamente i disagi sono enormi, non percepire lo stipendio per tre mesi potete capire bene cosa significa. Per questo motivo stiamo qua per chiedere alla parte Asrem di provvedere al pagamento della fisiomedica per poterci dare lo stipendio e anche per garantirci il nostro futuro in seguito. Il nostro lavoro è sempre al massimo della professionalità però ovviamente al di fuori del lavoro nelle nostre famiglie c'è tantissimo disagio. I lavoratori durante l'incontro hanno spiegato di non aver percepito le mensilità di gennaio, febbraio, aprile oltre ai vari arretrati contrattuali. I problemi della fisiomedica hanno continuato, si trascinano dal 2008 quando l'azienda ha firmato con l'associazione di categoria della quale fa parte un contratto i cui aumenti sono legati ai fondi che stanzia la Regione, la quale però è in piano di rientro. L'Asrem, hanno spiegato ancora ai lavoratori, ha ridotto il budget a disposizione della fisiomedica portandolo a poco più di 1 milione 800 mila euro e secondo loro non basta. Per fortuna grazie all'intervento del presidente Frattura sono stati già sbloccati 118 milioni di euro al primo tavolo di confronto e sta proseguendo anche il dialogo con il tavolo tecnico nazionale per sbloccare altri fondi in modo tale che l'Asrem possa pagare tutte le strutture perché la fisiomedica è solo una delle tante strutture che versano in queste situazioni di difficoltà e a sua volta la fisiomedica ha avuto quello che gli spetta può procedere a pagare il salario ai lavoratori. Per quello che so, anche per le vie brevi, l'Asrem comunque si è già adoperata e sono convinto che se la fisiomedica ha già avuto assegnate almeno in parte le spettanze che ha diritto provvederà se non a pagare tutte e tre le mensilità almeno una parte. Dall'incontro sono emersi i primi spiragli di luce per i dipendenti della fisiomedica Loretana poiché i rappresentanti dell'Asrem presenti al tavolo hanno garantito, pur nelle difficoltà del periodo, la firma del provvedimento di liquidazione per il 2012 hanno comunicato di aver riconosciuto le spettanze del primo bimestre del 2013. Inoltre si è convenuto che entro due settimane si provvederà a individuare soluzioni favorevoli per risolvere, si spera definitivamente, la questione.